Ciao ragazzi, allora ecco qua un altro video l'episodio 6 sempre se voi avete visto tutti gli altri e se ci sono, perché non so se peccate qui ok, scusate allora, allora l'ultima partita come l'ho finita? 4? 4? 4? 7? 4? 9? vabbè, sono solo che ho fatto 4 uccisioni 0 assist mi sembra vabbè, continuiamo perfetto scusate ma noi non abbiamo il pvr si chiama così? corretto, quello per fare i video sul computer? esatto Cristian l'ha ordinatercela potremmo chiedere ok, su questa mappa lo spazio forse si può usare è una bomba lo spazio no, non è vero è vero perché lo spazio è uno spazio non sei si può vabbè, questa battuta alla fine l'ho what the fuck? ma ha coltellato il figlio di puttana ma se l'hai spazio con lo spazio? eh, non l'ho preso vabbè, questa battuta l'ho copiata dai defesco che con il 6 di merda la metatevi con loro, non con me no, dai ragazzi mamma mia, anche velocità di caricare a parte gli scherzi ragazzi dei felici che mi sono simpaticissimi hai notato, siete molto simpaticissimi come un dito in culo che cazzo dice? a parte questo, il e questa è la mappa dove hai fatto la sfida l'ultima volta si, la spravvivenza si assist assist quanto ti rompi i coglioni che quando fai un assist? voglia ma sembra male che farmi uccidere vabbè questa mi sembra ovvio infatti io subbatto, non faccio tanto uccisore ma faccio un macello di assist su castro cioè, una volta su butthead eeeh proprio stra raramente una volta su 100 capi devi fare il 100% assist togliere tutta la vita all'altra ma non ucciderlo proprio completamente l'altra è al 0% di vita ma ancora porco boia cos'è il predator infatti doppia uccisione ma ancora cammina ti ha centrato te per primo se il freddo e' che aspetta che lo becco aspetta lo becco magari è il tizio che è ucciso prima dita aspetta che becco lo becco dico cazzo non l'ha preso la stordente il flashbang lo stordente è la stordente non è la flashbang no la flashbang fa il flash la stordente fa così ti rallenta guarda di quanto ah ti rallenta e ti fa un po' di flash si e ti toglie un po' di vita no si perché hai visto che c'era il sangue pochissimo ecco no a terra ah no è il sangue è vero ti ho detto poi non riesco a capire perché il patefile è per 16 anni e questo è per 18 sotto questo è più figo è più da bello zio non c'entra niente perché è più figo eccetera che un gioco può essere struttivo e può essere da 7 anni chi è il figlio di puttana che me l'ha rubato? aveva morti del pezzo di merda io becco che cazzo era? perdita l'altro? mh ah sì ho visto la top fail di code di code quante top erano? 5 top 5 5 no no fail ma erano 5 top allora erano top 5 delle fail si top 5 delle fail in cui uno ha lanciato il predator poi un altro lo stesso istante dopo un po' di istanti l'ha lanciato anche lui l'altro ha detto aspetta c'è arrivo c'è arrivo c'è arrivo dopo ha centrato quello di prima ci sono esplose tutte e due in aria pensa la sfiga la sfiga che ha avuto questo dimmi in te se si non ha avuto sfiga occhio alla veneta aspetta di lato no? cazzo lo che penso con lo scadvento la sfiga è stato stracampurato eh anche qua più come l'angelo guarda che roba si prova di inizio nella gara eh infatti no la partita prima eh ragazzi oh eh so compiote che non so che mica faccia è proprio la tua connessione no guarda che a me non laga laga di sotto si mette i fili ma non tanto che non voglio dire che adesso tanto adesso che fa qualche minchiata stai qua no? che diretti? vengono superli qua? no per il tanto che mi sparano da sotto il legno è attrapassabile ma non è che ti vedano attraverso il legno eh ma hanno il sensore colpò la testa boomer shot bitch boomer shot bitch copiata dal retello ma vaffanculo anche il pan di me vaffanculo 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 bene ciao ragazzi un attimo si scusate per se non l'abbiamo salutato prima 4 11 2 assist vabbè vado pro tom 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 tom